Sì, è una partita come devono cominciare queste partite, è un po' tirata, crescendo la partita abbiamo cominciato a giocare bene, noi abbiamo un bello roster, quindi sicuramente ci aiuta per finire tutte le partite, abbiamo disputato una discreta partita, potremmo giocarla meglio, abbiamo sbagliato molto in fase offensiva, proprio i tiri sbagliati, però diciamo noi ci siamo difesi, il campo è un'ottima squadra, potremmo fare meglio secondo me.